The District of Joy ha delle radici molto profonde all'interno del tessuto urbano milanese. Serravalle Designer Outlet infatti già dal 2022 ha deciso di investire nell'area di Parco Ravizza e ha realizzato un progetto di urbanismo tattico e di rigenerazione urbana su un'area di oltre 2000 metri quadri con un'opera di street art curata da Luca Font, opera che ci ha permesso anche di installare un'area di workout totalmente inclusiva. Nel 2023, anno scorso, è stata realizzata all'interno della stessa area del Parco Ravizza una festa musicale davvero molto molto rilevante col patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione con Milano Pride. A valle del successo delle due iniziative arriva The District of Joy nel 2024 che vuole avere rispetto alle precedenti un'ambizione ancora più ampia. Nella fattispecie ci siamo dati come obiettivo quello di confermare la partnership con Milano Pride e ovviamente di avere il patrocinio del Comune di Milano ma nello stesso tempo abbiamo allargato la platea e siamo riusciti a portare a bordo altri partner territoriali che ringrazio. Partner territoriali quali La Santeria, Arci Bellezza, il Museo e il magazzini della musica, Libreria Egea e l'Università Bocconi che ringrazio tanto per il supporto. Insieme a questi partner organizzeremo una rassegna che durerà una settimana dal 24 al 30 giugno e vi invitiamo ovviamente a partecipare a tutti gli eventi. Eventi che avranno un comune denominatore, vale a dire la valorizzazione dell'inclusione, della libertà e della gentilezza. Il palinsesto di The District of Joy è veramente ricco. Sono già state inaugurate due mostre fotografiche, una all'interno del campus Bocconi e l'altra in Santeria che saranno disponibili fino a domenica 30 giugno. La serata principale, il main event è avvenuto nella serata di mercoledì, una festa musicale davvero molto molto divertente con una super ospite di eccezione, Loredana Pertè. Nei prossimi giorni invece ci aspetteranno altri appuntamenti molto interessanti. Permettetemi di sottolineare in particolar modo un talk che verrà organizzato in libreria Egea per venerdì 28 alle ore 18 intitolato Che cosa si aspetta alla generazione Z dall'azienda.